l'idea fantascienza retro sono buone io ho messo tutti quanti come tutti quanti in che senso ci ho messo solo quello mitico e plasmico ah ci sta ci sta e poi io ce n'ho anche altri comunque io quella mitica l'ho trovata veramente nei lama insieme a un'altra arma comunque dei monolite a sto giro non abbiamo problemi io sapevo l'unica cosa che non puoi trovare nei lama degli armi è il diatomizzatore non lo puoi trovare nei lama diatomizzatore sapevo e neanche colpo di istinto il colpo di istinto non è un'arma fantascienza retro eh dico però anche delle armi spie armi militari e no è un'arma via sono tutte non è arma i militari sono l'apparizione, l'operatore quelle sono armi militari armi spie che sarebbe appunto il colpo di istinto pure quello non puoi trovarlo nei lama sa e c'è pure pulsare è forte il pulsare si è molto forte il pulsare il pensare di jack beh un po' più forte del gioco eh cosa il pulsare il pulsare si ho hai scoperto canza forte contro molti zombie si però contro molti zombie si contro pompa singoli ci sono di meglio no contro smash prendi 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 apocalypse e sto entrando no 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 kevin da gliela lui prende va vai cosa serve velocità perché a lui io tolto io tolto l'arma ma c'è io tolto agile almeno con quello aumento di poco vabbè di poco anzi è meglio rispetto a 12 che ma non sa che scioglie un botto con plasmico ti ho detto io fra dagli prendete la chiave Kevin vai presa presa quasi 40 ci sta dai è buono è buono mi raccomando rega destra eh vediamo ora occhio rega che c'è la cosa vai fate vedere va va gli ho lasciato tutto aperto vai vado avanti no no te li devi fare te questi tre dove cazzo sta l'altro allora uno quello lì normale uno avanti e l'altro a sinistra mitia sta proprio nell'altra stanza sta questo qua si dai presa presa 1 e 30 eh 1 e 45 no 1 e 40 si sinistra fatevi questi due apocalips fattilo te Kevin vai avanti e fatti questo qua no non c'è quindi si va avanti fatti entrambi ok chiave non è qua ok Kevin fatti questi due no questo ho sbagliato ah ho dato basta che ne fa uno io già ne ho fatti due dove cazzo sta l'altro ok sta qua dai rega no quanto sta io la rega muovetevi però c'era 1 ok non lo trovavo c'era puntata come un tardo prendi la chiave tre minuti dobbiamo entrare mi sto spammando io ho un cane presa presa vai ah beh prendi tu tre minuti e cinque oh merda ci muoio minchia da ci stavo morendo vai a poco se fatteli eh non c'ho la minicamp pronta vabbè fatteli te allora vai tanto io ti altro grido se li fai easy non ci credo non ci credo non ci credo imbarazzante veramente no rega vabbè buona buona re dai perché non mi clicca R2 attento qui sotto attento qui sotto ok vai vai peglio io la chiave eh eh rega purtroppo qua è un casino ok sta qua la chiave trovata sta qua però non posso prenderla se riuscite prendetela voi rega l'ho pingata manca poco e la prendo cioè un bel po' ma sai che mi sa che ce l'ho davanti aspetta che vado a vedere spero perché se ce l'ho davanti è ottimo si ce l'ho davanti buono 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 presa 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 apri apri dai c'è c'è la minicane grido pronte vai 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 a mettere il campo lento le torrette ragazzi sfumate le torrette ma chi ce l'hai le torrette dai no il muro davanti però che cazzo me l'ha messo il muro davanti tranquillo tranquillo non fa nulla non fa il muro vabbè no 54 no abbiamo fatto il record di nuovo rispetto a 457 però possiamo essere che ha tanto che possiamo fare di meglio per acqua si è molto anche 30 secondi in mano sai come hai fatto ciò